Buona Mifite, benvenuti nella valle del lago d'Ansambl. Adesso facciamo un percorso per vedere un po' di cosa la zona ci dà da scoprire. Ma è vero che ci porterai a vedere le rovine, del famoso Tempio dedicato alla Dea Mifite? Sicuramente, faremo un percorso alla ricerca del Tempio della Dea Mifite, di 2000 anni fa. Voi siete pronti? Siamo prontissimi! Andiamo, andiamo. Com'è il luogo? Tranquillo? Stamattina sì, tranquillo. La giornata promette bene. Ok, buon viaggio, buona escursione.